su di giri amici sportivi e bentornati a chiedi al bardo l'unica video rubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling oggi mi chiedete quanto è stato importante per la wwe acquistare wcw e di stream championship wrestling beh quando la wwe le ha acquistate le due federazioni avevano l'acqua alla gola erano sull'orlo del tracollo erano ad un passo dal burrone anzi le stream championship wrestling era sommersa di debiti con stipendi arretrati e fornitori in attesa di pagamento da mesi per questo oggi quando nelle arene wwe sento gente che canta il sw sw spesso emotivamente mi intristisco se i fan che oggi fanno gli espertoni l'avessero sostenuta davvero in maniera legale oggi invece di un coro malinconico avremmo e avrebbero magari una bella realtà viva e purtroppo questo è un destino che accomuna tanti gruppi indipendenti che sono andati incontro alla loro estinzione la wcw è invece un asset in perdita pesante ormai da anni di cui la owl time warner voleva sbarazzarsi e poteva rappresentare un concorrente per wwe solo qualora fosse comparso un acquirente molto danaroso disposto ad investirci c'erano alcune voci di corridoio con eric bishop a capofila di una cordata di un'azienda che si chiama fusion media che voleva in qualche modo entrare nel business wrestling ma poi non se ne fece nulla l'assorbimento delle due sigle dei due concorrenti ha permesso a wwe di liberare il campo da qualsiasi competitor avesse una notorietà lasciando come distantissimo secondo qualsiasi altro gruppo sarebbe venuto dopo di loro e così è stato ed è tutt'oggi se dobbiamo dirla tutta l'acquisto dell'archivio videografico delle due compagnie ha poi fornito lo scheletro portante insieme al materiale natio chiaramente del network che è la direzione presente e futura verso la quale la rega sta investendo io credo che tra 50 anni quando si studierà la storia diciamo del wrestling moderno di sicuro la caduta di wcw ed extreme championship wrestling e il loro assorbimento da parte di wwe rappresenterà uno spartiacque di straordinaria importanza sarà visto come un punto cruciale di svolta capace di chiudere un'era e di aprirne un'altra ecco queste sono le mie considerazioni chiaramente ridotte e ristrette compresse in qualche minuto ma ora se volete parlare e approfondire ulteriormente l'argomento se volete aggiungere elementi di discussione di tarroventi qua sotto nei commenti c'è spazio per tutti dateci dentro